Ciao ragazze, come vi chiamate? Ndn Van Kinsala Claudia Caserini Capra Diana Portillo Veroni Di che squadra fate parte? Rarinantes Novara Vi siete già imbattute nelle gare? Sì, 4% stile libero Come sono andate? Così, così Come mai potevate far di meglio, allenarvi di più? Sì Tutte e due È la prima volta che siete qui a Riccione? Sì Quindi siete matricole? Sì Vi hanno pitturato? Sì E che sensazioni avete provato? Di solito prima di una gara? Una volta Agitate Com'è l'allenamento di solito per un nuotatore? Molto pesante? Difficile? Dipende Quando sono le gare certe volte si tira, certe volte si scarica Riuscite ad avere abbastanza tempo poi per voi nelle attività libere, lo svago? Sì, anche se il tempo libero è poco Ebbè immagino, tanto per un atleta è così Vostri obiettivi per il futuro? Eh, non lo so A che cosa aspirate? Eh, diventare campionesse, un campione che vi piacerebbe? Pellegrini Pellegrini Eh, ci invidiano Immagino E i vostri genitori sono qui con voi, vi stanno vicino, vi sostengono Sì Perfetto ragazzi, allora ci fate un saluto per Dolce Farnuoto Ciao E un in bocca al lupo per le vostre gare e il vostro futuro Te amo Ciao Ciao Grazie.